Grazie a tutti. Nel dibattito egittologico i specialisti tendono a parlarne per liquidare il tema più che per affrontarlo, ma ci sono eccezioni, esistono alcuni studi anche di qualità, autorevoli. Nel mondo egittologico, anzi nel mondo di chi si interessa all'Egitto, si scontrano due vulgate. Una vulgata che è quella a cui faceva riferimento il dottor Assalto, quella dell'idea di questo Egitto, dove c'era la piramide sociale, dove la piramide forniva una straordinaria metafora visiva per la struttura di una società oppressiva, con gli schiavi in fondo e poi in cima il faraone con tutti i passaggi poi intermedio, visto vari sussidiari, vari libri di scuola delle elementari con la piramide sociale, proprio questa illustrazione. E questa è la vulgata, diciamo, più generica. Poi c'è una vulgata, diciamo, forse più da intenditori, che è quella a cui appartiene anche Zaki Awas, che giustamente le ha adesso ricordato, che è quella che la schiavitù non esiste, basta orecchiare qualsiasi gruppo guidato dalle nostre fantastiche guide dell'Egittologo qui al museo per sentire si ripetere una versione di questa idea. A costruire le piramide erano operai pagati, eccetera, eccetera. Allora, premesso che le testimonianze sono frammentarie e che noi comunque qualsiasi ricostruzione di quella realtà deve essere un modello che deve in qualche maniera rispondere a dei dati che comunque potrebbero essere contraddetti da dati ulteriori. Insomma, immaginate di cosa sto parlando. È una civiltà per cui abbiamo tante informazioni, ma sparpagliate, frammentarie, incomplete, spesso parziali, viziate ideologicamente, viziate dal nostro punto di vista, perché non racconto in realtà com'è, ma come dovrebbe essere. Fatta questa premessa, io vorrei partire, mi sembra molto appropriato partire, da una citazione di Luciano Canfora. che dice in un suo saggio che al di là delle manifestazioni propagandistiche, l'obiettivo prevalente della guerra nel mondo antico è, in ultima analisi, la cattura di prigionieri di guerra da ridurre in condizioni di schiavi. Ecco, lui sta parlando, quando dice mondo antico, di solito Egitto e Vicino Oriente sono esclusi dal campo visivo, del dibattito, del mondo antico, ovviamente Canfora parla di Grecia e di Roma, e in particolare di Grecia in questo saggio. Quindi, i greci fanno la guerra continuamente, non per la gloria o perché, va bene, pari del rapito Elena, ma per acquisire mano d'opera. E noi sappiamo che si facevano la guerra in continuazione. Il parere di Canfora, che trovo autorevole e corrisponde a altre considerazioni che si possono fare su questo periodo, su questa civiltà, ci dice che questa forte motivazione è economica. Tutto ciò ha un senso applicarlo all'Egitto? Allora, questo ragionamento si divide in due parti. Uno, si fa la guerra per fare i prigionieri. Due, questi prigionieri vengono fatti schiavi. Allora, per quel che riguarda la parte uno, si fa la guerra per fare i prigionieri, quindi non c'è nessun problema. Un attimo che mi impaticisco della tecnologia. Ok, ci sono. Questa è la citazione di Canfora. Questa è la prima di alcune testimonianze che vi faccio vedere. Cioè, gli egiziani, sì, facevano la guerra, e nella guerra i prigionieri sono la parte principale del bottino. Vengono sempre per primi. Questa è questa immagine della guerra, che corrisponde senz'altro a una qualche realtà, anche se è un'immagine. Inizia agli albori della società egiziana. Quella che vedete è la testa di mazza di un faraone fra i più antichi che conosciamo. Un faraone che sarebbe interessante, ma non ce n'è bisogno. Questo qui è ancora più eloquente. Ecco, questa è una testa di mazza srotolata su cui è raffigurato il faraone al centro su un'alta piattaforma. Si tratta di una cerimonia giubilare, una cerimonia importante su cui anche non è importante la festa sed, non è importante parlarne. Quello che è interessante è che se guardate alla sinistra dell'immagine quell'immagine è un po' cancellata al centro del registro centrale. Ci sono tre uomini che fanno una specie di danza, poi dopo c'è un signore inginocchiato con le mani, le braccia legate dietro la schiena in una posizione che è tipica del modo di schiena, che assomiglia a come si tengono gli uccelli per le ali. E la metafora degli uccelli è usata nelle teste egiziani. È un modo di sperimentare è il geroglifico del pigioniero perché questa non è solo un'immagine, questa contiene anche geroglifici questa rappresentazione e sotto c'è un numero. Un numero sotto il pigioniero c'è un animale che sembra un pesce, ma è un girino e sotto ancora ci sono due dita. Il girino in egiziano si legge centomila e il dito si legge diecimila. Potete fare facilmente il calcolo, stiamo parlando di centoventimila prigionieri. Uno sproposito, ma mai quanto il numero del bestiame. Perché sempre poi quando se leggete anche il romanzo di Sinue il faraone ritornava dalla sua campagna contro i libici portando infiniti portando infiniti prigionieri e infinito bestiame. Sempre questa copia prima i prigionieri e poi il bestiame. Prima i prigionieri e poi il bestiame. E' interessante questa cosa, dopo ne riparliamo. Il bestiame è allora vedete un po' più sempre a sinistra ma un po' più verso il centro verso le scale che portano la piattaforma del faraone vedete un toro dietro al toro una capra dietro alla capra un uomo con le mani alzate un uomo con le mani alzate si legge un milione ok e poi abbiamo di nuovo i girini sotto al toro e sotto alla capra che sono otto girini quindi ottocentomila e poi due ancora due due dita sono 20.000 siamo 1.820.000 capi di bestiame stimati alla grossa diciamo naturalmente su queste cifre possiamo fare tutte le possiamo usare tutte le cautele del caso e io lo più che prenderle sul serio non escludo che si possono prenderle sul serio ma ci andrei molto molto cauto perché sembrano più cifre esagerate per motivi rituali e magici però quello che è importante è che dagli alboi della civiltà egiziana è già stabilito un topos della della letteratura della anzi della propaganda reale che è quella dei prigionieri che vengono riportati dalle campagne e gli esempi potrebbero moltiplicarsi qui abbiamo di nuovo questa è a Palermo esposta la pietra di Palermo sono degli annali che raccontano che elencano gli anni di regno dei sovrani dell'antico regno ricordando eventi portanti del loro regno a ciascun anno e qui nell'anno di un faraone in un anno di un faraone chiamato Snofru un faraone non ci interessa è un faraone visto molto tempo cioè l'antico regno non ci interessa specificare altro vediamo guardate la terza colonna da destra si legge da destra a sinistra la terza colonna da destra abbiamo ancora il nostro pigioniero è un po' difficile da riconoscere ma è il nostro pigioniero c'è un pigioniero maschio una pigioniera donna e sotto c'è di nuovo un numero il numero è 7000 e sotto cosa troviamo è di nuovo il nostro bestiame il toro la riete e con sono 200.000 sono due girini sotto la riete 200.000 già cominciano ad essere cifre che vanno più verso quindi queste sono guerre di razzia come le guerre che facevano Atene e Sparta una contro l'altra e contro gli altri loro vicini sono effettuate ai danni dei tre popoli confinanti con gli egiziani che sono il vicino oriente la costa siro-palestinese e poi a sud i nubiani e a ovest la Libia e qua vediamo una citazione di un papiro che si date intorno al 1200 avanti Cristo è il faraone che parla e vedete a secondo rigo lui porta quelli che la sua spada ha risparmiato legati come uccelli che è questa immagine che abbiamo visto prima e dice decine di migliaia di uomini donne e bambini centinaia di migliaia di bestie parla anche della marchiatura dice che li ha marchiati a suo nome perché esiste anche questo quindi ed eccola qua la marchiatura nel tempio proprio di Ramses III che è il faraone che parla nel papiro Harris che abbiamo appena visto ecco che questi sono non sono questi stavolta non sono libici sono Peleset sono popolo della popolazione orientale vengono marchiati dagli dagli scribi che poi stanno anche lì a registrare 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 e poi l'immagine forse più eloquente di tutti anche che evoca ci evoca associazioni in debite di una di una tratta degli schiavi basata sul razzismo e forse non è esattamente questo il caso e questi sono dei pigionieri nubiani dei bei rilievi che sono che vengono dalla tomba di Horemheb a Sakkara nella zona dove scava il museo egizio e siamo intorno al 1330 a.C. e nella tomba di questo allora generale sono e ci sono celebrare le sue conquiste e ci sono e c'è la registrazione vedete c'è quello che picchia ma c'è anche quello lì che sta lì a registrare a scrivere a contare i prigionieri e e qui io passerei a fare un attimo una riflessione teorica brevissima cioè noi siamo abituati a pensare che schiavo è uno status legale soprattutto il diritto romano ci dice cosa è uno schiavo che è una istituzione io penso che la che l'istituzione l'istituzionalizzazione nasce dalla da una realtà soggiacente economico economica politica che poi determina poi le leggi le parole che si usano per parlare dei rapporti sociali cioè non ci sono prima le leggi e poi i rapporti sociali ma prima c'è le esigenze di sopravvivenza di arricchimento di controllo di potere e da quelle scaturisce poi scaturisce poi il sistema legale quindi ridurre appiattire il discorso sulla schiavitù ma su qualsiasi fenomeno sociale agli aspetti legali da un altro terminologici dall'altro significa non rendersi pienamente conto non rendere pienamente conto del fenomeno che stiamo studiando e è interessante comunque partire dalle parole perché la parola schiavo non viene né dal mondo greco-romano e né meno tanto meno dal mondo della schiavitù nordamericana che sono per la maggior parte sono i due luoghi simbolici le due realtà simboliche della schiavitù e viene in realtà dal greco-bizzantino e deriva dalla parola che oggi è diventata slavo slavo-schiavo è un etnonimo è un nome di popolo e molti in varie realtà in cui ci sono fenomeni simili l'etnonimo il nome del popolo diventa il termine sociologico senza che ci sia stato un legislatore che ha codificato e ha detto allora facciamo che lo schiavo fa questo no questo viene dopo quello schiavo è uno straniero è una parola per straniero e esiste anche in Egitto per un periodo limitato dalla storia egiziana il termine asiatico per dire persona di cui tu disponi che lavora per te è nel periodo chiamato il Medio Regno siamo intorno facciamo conto nel 1008 avanti Cristo quindi è un fenomeno conosciuto anche per l'Egitto anche se per l'Egitto c'è una varietà terminologica che fa anche problema e allora perché gli schiavi sono stranieri perché a che esigenza risponde quella di importare stranieri e io mi rifaccio a Engels l'idea che non si producono solo i beni ma anche gli uomini e e poi ha un antropologo che ha scritto un saggio molto penetrante sulla schiavitù Claude Meillassoux che ci dice che la classe che il sistema schiavistico si basa sull'asfruttamento di una classe di produttori che viene rinnovata non cioè tramite l'acquisizione tramite acquisizione quindi non nascono dalle donne ma vengono o catturati col ferro o comprati con i soldi da cui questo sottotitolo sinistro del suo del suo libro l'utero di ferro e di e di argento e questa è una definizione sostanziale materialista di schiavitù e alla luce di questa che io guardo la schiavitù in antico Egitto e non diciamo e non di un paradigma puramente legalistico o puramente terminologico e e quindi si pone la domanda siamo partiti da Canforo no? si catturano i pigionieri e poi diventano schiavi e questi cosa diventano quando arrivano in Egitto? questa è la domanda e non è una domanda altrettanto semplice la prima domanda è facilissima si si schiavi catturati prigionieri non schiavi ancora prigionieri catturati e portati in Egitto su questo non c'è il minimo anche in quantità notevoli decine di migliaia se non vogliamo dare retta ai numeri della mazza che abbiamo fatto vedere all'inizio però arrivati qui prendono due strade sostanzialmente adesso la faccio la sintetizzo la prendono la vengono o assegnati ai progetti diciamo statali e quindi qui con Buona Pace di Hawass citato all'inizio vi mostro una sfinge di Amenemhat secondo un faraone vissuto siamo sempre intorno facciamo sempre cifra intorno a 1800 o 1700 piuttosto giù di lì ecco lui fa una campagna in Siria ne riporta 1554 pigionieri che vengono dati con altri beni ottenuti tramite questa razzia alla sua città piramide la città dove si costruisce la piramide di Amenemhat secondo e questo diciamo diciamo dico con Buona Pace di Hawass perché Hawass direbbe no erano pagati questi qua di dubito che li pagassero questi qua vengono assegnati e secondo i calcoli che ha fatto Mark Lehner che è un autorevole studioso delle piramidi questi questi mille 500 errotti avrebbero stato circa un terzo della forza lavoro richiesta per costruire la piramide certo è un caso per tutte le altre piramidi non sappiamo niente di tutto ciò non abbiamo evidenza dell'uso di manuola d'opera importata per le piramidi di Cheope di Chefren di Micerino sono frammenti di informazioni qua saltiamo in avanti nel tempo e nella tomba di Rehmira abbiamo in basso a destra abbiamo in basso dei pigionieri che vengono condotti questi qua saranno assegnati alla Hotep Necer alle terre del tempio per fornire la loro mano d'opera al al tempio e questa è una delle possibili destinazioni cioè i pigionieri arrivano e poi vengono sfruttati dallo Stato l'altra alternativa è invece che finiscano in mano privata e c'è un'autobiografia molto famosa Mose figlio di Abana che combatte sotto vari faraoni e cattura lui stesso personalmente dei prigionieri ed è ricompensato con un numero di prigionieri che corrispondono grossomodo a quelli che lui ha catturato sono 19 prigionieri esiste anche in epoca più antica qui il signore che vediamo i signori che vediamo seduti sono serviti da persone va bene le donne dietro di loro sono sono mogli ma le ragazzine piccoline con il vaso in testa che vedete dietro ecco il primo registro sulla sinistra c'è una ragazzina con un vaso in testa e lei è una Hemet termine che varie egittologi non si fanno scopo di tarurre con schiavo ce n'era un'altra di cui si vede solo il vasetto dietro a quella signora che sta dietro all'uomo nel registro mediano ecco e lei viene da Punt un luogo che sta verso il sud dell'Egitto in Africa nel Mar Rosso una località remota che ci tenevano evidentemente a sottolineare questo è il disegno di una stele che sta in un museo a Longre in Francia e questo è un papiro sono stato andando avanti e indietro nel tempo non è molto importante è l'idea che voglio trasmettere questo adesso siamo di nuovo verso il 1000 avanti Cristo questo è un papiro dove viene si parla di una schiava straniera siriana acquistata dell'acquisto di questa schiava di quanto si è pagato eccetera perché esistono anche questi documenti di acquisto cioè c'è a monte della cattura del ventre di ferro c'è anche il ventre d'argento c'è un commercio di schiavi che coinvolge spesso anche che coinvolge anche mercanti stranieri a volte raramente attestato ma le attestazioni ci sono e quindi questi sono alcuni degli soltanto alcuni degli svariati esempi di questi di questi esempi come si dice intriganti perché ci fanno intravedere una realtà ma non ce la descrivono in maniera compiuta quindi vanno meditati, confrontati, analizzati senza farsi prendere e poi anche pensate sono 3.000 anni di storia non detto affatto che la situazione dello sfruttamento di una mano d'opera catturata all'estero fosse la stessa nel 1300 a.C. che nel 2000 che nel 2005 possono esserci cambiamenti enormi e a proposito di 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 marchiatura mi viene in mente da Elefantina dove c'è una comunità ebraica in Egitto in epoca faraonica c'è un documento del V secolo in Aramaico un papiro che parla dell'acquisto di un di uno schiavo che non a caso sembra straniero è la E della sua che il nome il nome del in cui in questo papiro si dice che il nome del padrone è tatuato sulla sulla sua mano dice io sono di e poi il nome del personaggio e con questo andiamo un po' avanti nel tempo e quindi mi mi rivolgo a Anna Anna Sofia che mi riallazzo al discorso che facevi prima a proposito dei bidonieri di guerra stranieri quelli che in termine molto direi castigo vengono decisi che sono quelli legati a vita perché hanno una condizione di schiavitù perenne per osservare che appunto come anche nel periodo dell'Egitto del quinto secolo di cui parlavi a proposito di questa comunità quindi siamo nell'Egitto persiano dove appunto c'è un'apertura al mondo esterno quindi non solo verso le comunità orientali o giudaiche ma soprattutto verso il mondo greco direi quindi anzi se facciamo un passo indietro e andiamo all'epoca della dinastia saidica che ancora è una dinastia indigena perché i persiani con la conquista di Gambise nel 525 a.C. naturalmente è un dominatore straniero che però sta bene i persiani stanno bene prendere la veste dei faraoni sono faraoni diventano faraoni insomma tutti gli effetti nel senso che perpetuano e trasmettono anche questo impianto amministrativo dello stato egiziano e comunque anche se godranno di una stampa non buona soprattutto dalle fonti successive non so pensiamo alla cronaca demotica sia indigene quando poi l'Egitto vivrà un altro un breve periodo di indipendenza prima poi della definitiva conquista da parte di Alessandro Magno quindi nel 332 a.C. quando si apre un altro Egitto perché giustamente l'Egitto nei suoi millenni ha un'evoluzione storica non possiamo parlare di un unico Egitto quindi la società varia a seconda delle fasi storiche che attraversiamo e quindi il discorso dei Sekei anche dei prigionieri di guerra che quindi sono stranieri con cui abbiamo iniziato questo discorso sulla schiavitù nell'antico Egitto però non ci deve nell'antico regno senz'altro la schiavitù è limitata direi solo a questa categoria di persone cioè questi stranieri sostanzialmente io penso che fosse estranea possiamo dire alla massa del popolo egizio perché nell'antico regno la differenza effettivamente avvertita non è tanto quella tra libero e schiavo come invece sarà avvertita nella Tene di Pericle quindi anzi viene teorizzato c'è chi nasce per essere libero e c'è chi nasce per essere schiavo anche Aristotele non ha difficoltà i filosofi solo diciamo greci non hanno hanno questa teorizzazione della schiavitù anche per nascita quindi per il greco è normale saranno solo i sofisti a cominciare a dare a inclinare questo concetto però ecco cioè a dire no per natura siamo tutti uguali non so Ippia Protagora poi però in sostanza diciamo invece tornando all'Egitto non c'è diciamo questa percezione tra schiavo e libero c'è una distinzione tra direi i funzionari che sono i seru e invece la massa del popolo che è tenuta a queste corvée diciamo che sono non sempre però perché spesso quindi in questa diciamo ci sono anche attestati questi decreti di esenzione nell'antico regno quali il decreto di Daschur di Pepi I quindi siamo nella sesta dinastia dove sappiamo che ad esempio delle comunità che erano al servizio appunto della della città della piramide oppure qualcuno al servizio della cappella funeraria veniva esonerato dal prestare queste corvée per diciamo per per lo Stato quindi le corvée sono il cao e quindi direi nell'antico regno effettivamente io penso che la schiavitù è limitata a questi lavoratori stranieri che a cominciare da Snefer abbiamo visto vengono razziati in guerra e quindi il loro destino è di una schiavitù a vita però tornando al discorso dell'evoluzione anche del concetto della schiavitù in seguito all'evoluzione anche della società egizia nelle sue varie fasi già nel Medio Regno invece la situazione sarà diversa noi abbiamo anche figure cominciano a emergere figure di schiavi che sono egizi sono di nazionalità egizia non sono più solo gli stranieri in qualche modo catturati nelle predati diciamo in queste spedizioni militari possono essere gli asiatici Amo possono essere i nubiani ma gli schiavi possono essere adesso anche gli egizi sono sono schiavi quindi per esempio i chesebu che sono i coscritti forzati che sono appunto queste masse di contadini obbligati ad un periodo di lavoro forzato che però è temporaneo abbiamo liste di chesebu dalle fonti amministrative del nuovo regno per esempio dei papiri di Launna abbiamo queste liste di chesebu che lavorano appunto per la costruzione della piramide quindi diciamo questi sono egizi e come pure sono egizi i chem nesu quindi questi servi reali perché appunto emerge anche questo nel medio regno questa figura il chem prima non era certamente uno schiavo anzi era nell'antico regno era il chem neser era il sacerdote c'era anche il chem che ha l'addetto alla cappella funeraria e invece nel nel medio regno emerge questa figura di schiavo perché che succede un po' la società se si può passare il termine si imborghesizza cioè nel senso che questa massa del popolo che prima nell'antico regno era sottoposto a delle corvée cerca di emanciparsi anche da questi obblighi e in qualche modo ci riesce diventa nasce quindi questa figura diciamo del piccolo borghese che sente dalle corvée però nel contempo emergono invece figure più assimilabili a quelle di schiavi come appunto sono questi chemnesu che sono di proprietà dello Stato però vengono affidati diciamo in custodia a un privato che ne dispone quindi possono essere venduti trasmessi in eredità donati se fuggono la punizione è molto diciamo dura insomma perché per i chesegu c'era che avevano un obbligo di lavoro forzato diciamo di lavoro temporaneo questi coscritti contati coscritti erano era se fuggivano c'era la c'era praticamente diventa la loro condizione diventava a vita ecco di schiavi a vita e forse per il chemnesu era ancora peggiore la punizione a quello che si può diciamo capire e poi c'è un'altra figura forse su cui io mi soffermerei per qualche minuto per completare il quadro che appunto ci aiuta la terminologia anche se la terminologia poi evolve nelle varie fasi storiche che è questo del BAC in effetti chi è il BAC il BAC che è anche diciamo un verbo che può avere il servitore in effetti quindi appunto non è non è lo schiavo il BAC è piuttosto un lavoratore in un certo senso tant'è che il BAC per esempio non può essere venduto quindi non c'è l'idea diciamo almeno nel Medio Regno invece poi in epoca saitica noi vediamo che ci sono anche contratti di compravendita di servi BAC quindi cambia la condizione e comunque è una persona perché parlo del BAC perché in qualche modo mi anticipa queste osservazioni che vorrei fare sull'Egitto Saitico e Persiano che è l'Egitto che conoscono i Greci e in cui viaggiano i Greci da Solone a Erodoto e diciamo il il BAC appunto ci sono nel Medio Regno anche delle attestazioni molte diciamo attestazioni alcune attestazioni letterarie che ci fanno capire anche della fiducia di cui godeva questo servo BAC presso erano domestici o domestiche presso ad esempio le case di privati presso cui prestavano servizio perché potevano lavorare presso un'istituzione templare o palatina ma più spesso i BAC lavoravano al servizio di un privato quindi entrano nel menage familiare addirittura ci sono insomma anche varie diciamo documenti insomma che ci fanno capire anche come qual era anche la la condizione di fiducia di cui godevano questi servi BAC nel contesto della diciamo della casa presso cui prestavano servizio ora questi diciamo questi servi BAC in effetti BAC che abbiamo visto appunto avere un'importanza anche nell'Egitto del Medio Regno in effetti li ritroviamo poi nell'Egitto saitico e persiano dove invece scompare piuttosto la figura del servo KEM in che senso cioè quindi che servo schiavo usualmente questo KEM appunto è quello che è tradotto usualmente come schiavo il KEM il KEM ritorna in qualche modo nell'Egitto saitico persiano ritorna alla sua alla sfera diciamo iniziale quella più templare quindi del KEM Nacer mentre dalla documentazione quindi scompare dalla documentazione amministrativa relativa agli schiavi mentre quindi viene sostituito proprio da questo termine Bach servitore che però diciamo a differenza dell'epoca del Medio Regno qual è la caratteristica saliente di questo periodo insomma la condizione di questo servo Bach nell'Egitto saitico e persiano adesso diventa una condizione oltre che transitoria anche revocabile perché il servo Bach anche si può in qualche modo emancipare però diciamo diventa adesso una condizione la servitù diventa una condizione volontaria questi sono egizi questi Bach che per motivazioni chiaramente economica cioè per avere una fonte di sostentamento sottoscrivono dei veri e propri contratti di autoasservimento di servitù volontari quindi già questa è una cosa che fa appunto capire anche la dimensione in cui diciamo diverse in cui siamo perché sono anche loro attori di un atto giuridico quindi mantengono la loro capacità giuridica già nel momento in cui sottoscrivono questi contratti e poi anche dopo continuano a mantenere una loro una loro la loro fisionomia la loro diciamo capacità giuridica possono per esempio testimoniare in tribunale cosa che invece nell'Atene classica lo schiavo non poteva non poteva fare chiaramente e poi il padrone quindi loro si vendono si vendono quindi vendono il loro servizio a volte vendono anche non solo se stessi ma sempre spinti dalla necessità vendono anche la propria famiglia i propri figli perché diciamo perché questa vendita qual è lo scopo perdono naturalmente hanno delle limitazioni della libertà però lo scopo è quello di ottenere un sostentamento diciamo una protezione un sostentamento economico addirittura una protezione anche per esempio il padrone sempre cose impensabili nell'Atene classica diciamo il padrone deve tenuto anche all'assistenza sanitaria per esempio nei confronti del servobac cioè se se sta male lo deve curare perché se diciamo è inadempiente quindi ci sono due tipologie di contratti in quest'epoca che ci sono che ci sono documentati insomma da vari papiri per lo più indemotico ci sono dei contratti di servitù sempre servitù volontaria però sono dei contratti diciamo bilaterali possiamo chiamarli cioè che hanno che prevedono due contraenti appunto il servo che si vende si mette al servizio del padrone quindi sono due i contraenti questi sono di solito sono a tempo determinato diciamo così viene anche specificata all'inizio la durata di questo contratto e quindi il padrone si impegna naturalmente a versare dei denari delle razioni alimentari a questi a questi servi BAC e poi abbiamo invece dei contratti che sono diciamo unilaterali perché sono sottoscritti solo dal BAC perché perché si diciamo si vende tra virgolette al Dio a un'istituzione templare quindi perciò non c'è diciamo l'altra firma l'altra parte contraente che per esempio molti di questi contratti ci sono arrivati dall'archivio del tempio di Sobek nel Faium a Teb Tunis nel Faium quindi in cui sempre in demotico e quindi che questi sono di solito a tempo indeterminato non è precisato il periodo diciamo di durata del contratto a differenza dei contratti diciamo bilaterali dove è specificata la durata e se abbiamo detto se il padrone non rispetta anche i suoi obblighi è inadempiente nei confronti del servo il contratto si può sciogliere in un certo senso per esempio il caso abbiamo questo caso sempre di diciamo di una risoluzione del contratto a causa di questa inadempienza degli obblighi contrattuali sono lì conosciamo questa storia di questo uomo Paif Cao Aui Consu comunque che da documenti sempre in demotico provenienti dall'archivio del tempio di Amon a Hel-li-Be che prima si era obbligato aveva stipulato un contratto alle dipendenze del sommo sacerdote del tempio di Amon ma poiché si era aggravato diciamo si era ammalato e quindi non era stato curato da questo sommo sacerdote allora aveva diciamo anzi le cure le aveva che aveva l'obbligo delle cure sanitarie invece era subentrato un nuovo sottoscrive un nuovo contratto quindi si conserva quest'altro contratto che risale al secondo anno del regno di Amasi in cui diciamo si 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 vende sottoscrive ad un nuovo padrone quello che lo aveva curato ne nasce una disputa diciamo legale ma alla fine ne viene diciamo ne viene fuori il secondo padrone perché il primo era stato inadempiente non aveva curato il servo e quindi non può reclamare più diritti sul servo quindi in effetti quindi questi in quest'epoca quindi diciamo a me sembra che c'è una mitigazione della quindi in quest'epoca saídica e persiana questo Egitto tardo questo c'è una mitigazione delle forme del concetto della schiavitù una umanizzazione è vero che si perdono dei diritti però sottoscrivendo questi contratti però se ne mantengono altri importanti per esempio questi servibacu possono ancora possedere dei propri beni possono diciamo sposare una donna libera e possono stipulare anche contratti in autonomia rispetto al proprio padrone quindi in un certo senso direi che queste fonti di cui disponiamo per quest'epoca coincidono anche con quella che io vorrei tornare un attimo a quel passo di erodoto da cui eravamo partiti celebre da cui eravamo partiti all'inizio perché c'è quest'immagine poi erodoto ne parla a proposito di di Cheop e quindi questa che un po' subisce questa quest'immagine insomma un po' di faraone sanguinario eccetera però e quindi dicevamo insomma chi sono questi uomini che lavorano alla piramide in effetti l'immagine che fossero schiavi io penso sia sorta da una interpretazione un po' distorta del passo di erodoto perché erodoto non lo dice si riferisce a loro come a uomini antro poi non come a schiavi gli schiavi sono i duloi dal miceneo dove ero già testato insomma in greco non si scappa quindi se si deve riferire agli schiavi c'è una parola precisa quindi schiavi non sono questi che lavorano alle piramidi e poi lo stesso erodoto quando lui fa un discorso che poi tornerà un po' diventato in Platone insomma delle classi sociali in cui sono divisi insomma questa società egizia non esiste appunto una classe di schiavi una classe servile quindi in qualche modo io penso che erodoto che comunque fu diciamo un attento osservatore della realtà egiziana visita quindi questo egitto persiano e erodoto però in qualche modo un po' recepisce questo carattere che possiamo dire in questa fase della storia egiziana di un egitto che sicuramente non si fonda sulla schiavitù cosa che poi in generale se parliamo dei greci poteva suonare molto strana quindi era una cosa un po' strana che non ci anche vabbè erodoto poi si meraviglia anche di queste di queste donne che incontra il mercato perché lì ad Atene le donne sono nel gineceo sono le schiave che vanno al mercato quindi diciamo c'è questa percezione di questa diversità direi tra i due mondi in questa fase storica mentre forse di una maggiore diciamo di una più massiccia presenza della schiavitù nel tessuto sociale forse potremmo parlare per l'epoca del nuovo regno a cui poi in fondo fa riferimento quell'immagine biblica che pure abbiamo quell'espressione biblica che pure abbiamo abbiamo citato all'inizio ecco perché fa riferimento ad un'altra diciamo realtà storica dove ci sono sicuramente anche per la necessità di approvvigionarsi di questa mano d'opera servile anche di provenienza da queste razzie di guerra insomma per 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 le esigenze diciamo dello statun quindi invece nell'Egitto saidico e persiano è un Egitto che quello poi che conobbero i greci è un Egitto dove senza altro se esistita questa schiavitù ha avuto dei tratti molto più umani e quindi anche i greci stessi percepiscono questa diversità ecco penso che la dottoressa Sofia citava il tornava a citare il passo e l'esodo e l'esodo è stato scritto molti secoli dopo però si riferisce a una realtà collocabile approssimativamente intorno al XIII secolo avanti Cristo cioè quella di Mosè ossia appunto la fase finale del nuovo regno io voglio ritornare un attimo però al nuovo regno perché c'è il caso noto di Deere Medina ecco gli operai o artigiani di Deere Medina sicuramente non erano schiari conosciamo molto la loro vita dai diari tenuti dagli dagli scrivi sappiamo che avevano una vita sociale molto ivace avevano molte forme di tutela sociale e c'è anche il caso di un di un di un operaio che riferisce di non essere potuto venire al lavoro perché è stato picchiato dalla moglie e insomma quindi voglio dire sicuramente non era una condizione di schiavitù e indubbiamente hanno atteso alla grande opera dell'epoca cioè le tombe della valle dei re allora in questa fase ci sono tracce di lavoro di schiavi e se c'erano in quale rapporto erano rispetto agli artigiani grazie di questa domanda che in effetti è un esempio pertinente questi delle Medina sono dei lavoratori che costruiscono la tomba regale e sicuramente lavoreranno duro lavorano a lume di torcia usano scalpelli e mazzuoli per scavare la tomba la dipingono però poi sono dei artigiani specializzati c'è un tasso di alfabetizzazione di non esco a dirlo comunque sanno leggere e scrivere tanti di loro rispetto a quella che è la media in Egitto e se non ne arrivano i pesci e gli abiti sono capaci pure di incrociare le braccia come nel papiro diciamo un po' anacronisticamente chiamato dello sciopero che abbiamo qui in museo che parlare di schiavitù nel loro caso è fuori luogo però noi abbiamo ci sono varie testimonianze noi abbiamo qui in museo un papiro che è il testamento di un signore che si chiamava Amen How che lascia dei beni a una situazione complessa con una prima moglie e una seconda moglie con le quali lui si regola secondo quelle che sono le leggi per la spartizione dei beni con con la consorte e fra questi beni ci sono degli uomini identificati con la spessione che tu prima hai usato Anna Baku che in questo vedo alterna con Hemu e dopo va a dire una parola su questa questione delle parole perché è interessante secondo me quindi dette in parole povere non erano posseduti loro stessi erano dei dipendenti gli uomini di Dele e Medina le donne ma possedevano altri uomini che non erano artigiani che andavano a scavare la tomba regale ma erano al loro servizio ed è questo questo papiro è uno un documento ma ce ne sono anche altri che dimostrano questo possedimento Dele e Medina questi artigiani non sono elite non sono classe dirigente sono quelli che Megiasu chiamerebbe un corpo sociale come la polizia come certi artigiani persone che svolgono una funzione per lo Stato ne derivano dei privilegi senza essere loro stessi detentori di potere hanno la visita del visir il visir viene al villaggio insomma hanno un rapporto con l'autorità però occupano questa posizione intermedia e tra i benefici c'è quello di avere delle persone al loro servizio e di dire questo potrebbe essere una chiave di lettura sempre ipotetica stiamo parlando sempre di non possiamo dire Egitto era così era quella come possiamo fare per aria proprio successiva l'evidenza non è abbastanza statisticamente significativa da consentirlo però io direi che l'ipotesi si potrebbe fare che il possedere esseri umani acquisiti nel commercio o tramite la guerra o tutte e due perché a monte del commercio c'è sempre la violenza del rapino della razzia e potrebbe essere un lusso cioè questa è un'altra chiave di lettura possibile la schiavitù nel periodo in cui la tale schiavitù è attestata come consumo privilegiato da parte di comunità di corpi sociali ristretti sia a livello proprio di appartenenza sociale sia forse anche a livello geografico cioè soltanto in virgolette città soltanto cioè stiamo parlando di un paese molto grande e rurale quindi possiamo immaginare che certi fenomeni siano anche ristretti ai centri urbani nel senso che si può parlare di centri urbani in Egitto stiamo parlando di però l'idea del lusso mi piace c'è il papiro Wesker che è un famoso racconto in cui si parla di un mago un mago che però è un uomo comune un neges non è una persona importante è un popolano un neges lo vanno a cercare e lo trovano lui è sdiato sulla porta mentre un hem altra parola che ha evocato adesso due hem esatto uno che gli ai piedi uno alla testa che si prendono cura di lui lui sta lì con a a farsi massaggiare e ungere ecco questo secondo me potrebbe essere una chiave di 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 lettura c'è gente che fa lavori che la gente locale non vorrebbe fare o che per cui è difficile avere l'aiuto della gente locale sento suono un campanello un'altra cosa secondo me interessante da aggiungere è il discorso del vantaggio economico perché la schiavitù è sempre stata considerata come un sistema produttivo a basso rendimento è una convinzione diffusa in realtà però la cattura l'uso di forza lavoro catturata rappresenta un un grande vantaggio economico per la per la società mille virgolette ospite nel senso che noi quando quando si viene nella società diciamo quando il lavoro viene riprodotto normalmente si riproduce nella comunità noi comunque alleviamo individui improduttivi fino all'età in cui non possono lavorare e quindi c'è un investimento della comunità nei suoi figli nei suoi bambini nei suoi bambini fino a che non sono in età di lavorare in questo caso noi con la razza ci appropriamo in un colpo solo dell'investimento di quella comunità nella sua forza lavoro e quindi stiamo facendo in realtà il vantaggio economico è consistente è una cosa interessante il problema se c'è schiavitù o no è se questo vantaggio può essere riprodotto mantenuto come la schiavitù facciamo conto della schiavitù nordamericana dove c'è una tratta che dura dura nel tempo si mantiene secondo quando la definizione di me ho dato prima quando questa classe si rinnova tramite acquisizione non basta che questa classe si formi ma poi deve essere rinnovata perché questi schiavi non si riproducono granché se si riproducono diventano un altro tipo di realtà e si va verso una forma di servaggio si va verso qualche altra cosa e quindi c'è questo aspetto economico dietro e poi a proposito di investimento io sono partito dalle le mucche e i caprovini bovini e i caprovini ecco io quello lo vedo come la stessa cosa il bovino è una forma di investimento consuma un sacco un sacco un sacco di foraggio viene mantenuto in vita allevato finché restituisce solo nel momento in cui viene macellato appropriarsi dei 200.000 capi all'epoca di Snowfru in un colpo solo significa è appropriarsi di un investimento enorme è un colpo grosso quindi bestiame umano bestiame 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 sono un po' andato per la per la tangente però è importante è un aspetto importante di cui bisognava parlare abbiamo ancora qualche minuto io volevo chiedere questo ecco da quello che è stato detto emerge una condizione una situazione di schiavitù sfuggente cioè sfuggente almeno alla definizione classica di schiavitù molto diversa da quella greca anche numericamente sappiamo per esempio che a Atene nel quinto secolo su una popolazione stimata ai centomila abitanti i cittadini ottimo iure erano diecimila gli altri non erano tutti schiavi c'erano anche i perieci ma in gran parte erano schiavi c'è Lisia appunto oratore attico del quinto secolo e dice in un passo che non c'era un poveraccio che non avesse almeno uno due tre schiavi e questo dal punto di vista numerico sicuramente non è la stessa cosa per la società egiziana però si può in parte la risposta a questo è già emersa ma vorrei forse più netta ma si può parlare di una classe di una classe di schiavi cioè in Egitto gli schiavi hanno mai costruito una classe così come è avvenuto nel mondo greco-romano ossia era una condizione transitoria quella di schiavi oppure era una classe che si riproduceva e i figli schiavi erano altri schiavi e quali erano le possibilità di essere emancipati io penso che non si diciamo appunto che questa differenza sostanziale dell'Egitto nei confronti sia della civiltà classica ma anche delle società del vicino oriente pensiamo all'ambito mesopotamico dove invece abbiamo attestazioni amiche di questo fenomeno della schiavitù per debiti che è un fenomeno dei contadini asserviti in seguito a questi a questi debiti che non possono ripagare che quindi diventa è un fenomeno strutturale della società quindi anche già dal protodinastico in ambito mesopotamico come pure nell'ambito classico dove appunto c'è questa classe servile che è diciamo codificata perché poi in Egitto c'è anche un altro problema che non esiste fino all'epoca diciamo tolemaica quando compare il codice per esempio il codice di ermupoli in demotico che comunque disciplina casi di diritto privato noi non è che abbiamo una codificazione dei codici di leggi come invece anche nel vicino oriente antico dal codice di Urnamu a Murabi quindi è anche difficile perché poi la schiavitù siamo abituati a inquadrarla forse diciamo noi che proveniamo diciamo eredi di questa mentalità romana siamo abituati a normarla a inquadrarla in una cornice normativa che invece nell'Egitto non c'è questo è il punto e quindi a questo punto parlare secondo me non si può parlare di una classe sociale proprio perché non c'è questo quadro normativo questa cornice normativa manca in Egitto in generale quando riguarda il diritto egizio osserviamo questo sì ci sono menzioni di le raccolte di leggi già all'epoca di Remeb però non ci sono pervenute e quindi noi andiamo ci sono notizie e Dario quello che mette fa questa sempre torniamo quindi all'epoca all'Egitto persiano fa questa grande questo grande lavoro di riorganizzazione del diritto anche quello precedente di codificazione del diritto ne abbiamo notizia però i codici arrivano dopo arrivano i codici di legge arrivano dalle tazzole maiche insomma arrivano quando ormai siamo in un altro Egitto quello che Bauman diceva l'Egitto dopo i faraoni che non è l'Egitto senza i faraoni ma non sono i tolomei e poi gli imperatori romani che prendono queste vesti del faraoni quindi diciamo è un discorso lì diverso là ci sono tante attestazioni è un campo di studio della papirologia documentaria quindi ci sono le attestazioni lì abbondanti mentre prima ci sfugono i termini quindi io penso che sia improprio parlare dell'esistenza di una classe sociale nell'antico Egitto di schiavi ecco sicuramente non fu un fenomeno strutturale della società e quindi l'Egitto da questo punto di vista come da altri si differenzia un po' sia dalle società del vicino oriente antico perché abbiamo detto che la situazione invece è molto diversa più documentata nella diciamo nella città mesopotamica fino dai suoi albori insomma dove effettivamente anche lì la schiavitù vediamo seguiamo che è un è un fenomeno strutturale alla società e che poi porterà anche a una crisi la società stessa poi dopo nel Tardo Bronzo le società del vicino oriente antico proprio questo fenomeno dell'asservimento dei liberi contadini per debiti eccetera e così anche nell'ambito della civiltà greca e romana insomma ci sono questi documenti questa cornice giuridica che invece diciamo che porta a capire che c'è una classe di schiavi che non c'è è una riflessione anche filosofica l'abbiamo accennato prima Aristotele Platone diciamo poi ci saranno i critici cominciano con i sofisti poi lo stoicismo delle critiche a questo concetto di schiavitù naturale necessaria diciamo e quindi lì c'è c'è effettivamente una documentazione che invece in Egitto non abbiamo non esiste quindi io penso che non si possa parlare di una classe sociale di schiavi in Egitto io credo che sia anche un po' il problema metodologico sia che la stessa definizione di classe è un concetto sfuggente nel libro Terzo del Capitale che Max raffronta ma non arriva mai lontano con questa riflessione io in relazione a questo discorso un po' all'atere però dopo non voglio entrare nel metodo di un di tutta la questione secondo me bastano i vari accendi che abbiamo fatto capite che ci sono ci sono c'è c'è tanto che fa pensare a qualcosa che assomiglia molto alla schiavitù come la la conosciamo c'è tanto altro che invece che mette in dubbio questa idea la demografia è fondamentale le prima menzionava il numero di schiavi ad Atene quei numeri sono impensabili per l'Egitto noi abbiamo nel regno di Amenofi secondo credo che la cifra sia 83.000 83.000 prigionieri di guerra importati dalla razzia sono su una popolazione che poteva avere un milione due milioni di abitanti qualcuno una stima di più qualcuno di meno comunque sono una cifra significativa ma comunque che può modificare la composizione sociale qui torno alla mia idea di prima in un ambito geografico ristretto non a livello dell'Egitto inteso come vale del Nilo e quindi questa 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 questione qui dell'incidenza la lascerella però le parole sono traditrici perché ci sono sappiamo l'associazione fa una parola e il suo significato è arbitraria da sostiuri in poi e la ci possono succedere diverse cose con le parole uno è che il significato resta lo stesso ma la parola cambia a un certo punto non si dice più popolo si dice gente ma si vuol dire la stessa cosa per dire e la noi vediamo uno slittamento continuo fa questa questa parola Bach e questa parola Hem li vediamo usati come sinonimi nelle lamentazioni di Pur che è un testo un antico testo egiziano e poi l'altra possibilità è che la parola resti la stessa quello che cambia non è la parola ma il significato la parola resta la stessa ma significa un'altra cosa è un esempio semmo è lampante è la parola latina per schiavo che è servus la parola non cambia cambia il rapporto di produzione cambia il rapporto di riproduzione perché la schiavitù è innanzitutto modo di riproduzione almeno come l'ho teorizzata io e la servus a un certo punto diventa il lavoratore della terra il serf in francese e in inglese il servo che non è più uno schiavo ma la parola resta lì al suo posto per designare un rapporto sociale che è radicalmente cambiato nei suoi contenuti e quindi direi che lo stesso sicuramente lo stesso possiamo vedere per l'Egitto Bach è usato per i contratti di autovendita cosiddetti che io sono d'accordo con te che non hanno niente a che fare con non sono un'altra cosa rispetto al rapporto di schiavitù Bach è anche applicato a quel signore straniero a cui è stato tatuato il nome del padrone in Aramaico che è stato venduto per soldi quindi la stessa parola in periodi non abbastanza vicini e e quindi direi che quando si usano quando si studiamo studiamo le parole dobbiamo tenere conto della loro scivolosità e guardare alla sostanza dei 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 rapporti sociali per capire di cosa stiamo parlando e di cosa 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 Grazie a tutti